Sì, prende un tello, poi ora si prende basse. Siamo già in rete su Fosolari? No, ancora no. Va bene, va. Carboglia a sud. Pino, ma ti ricordo Sardegna 1. Carboglia 2.000, no, Montepoli 2.000. Ciao! Donio! Donio! Questo è della Torres, vero? Giba? Dei Cagliari. Abbiamo fatto scambi di Maliere. Ah, non ho scambi di Maliere. Va bene. Che ti ha dato a te? No. Perché ti ha dato? Dele Giba. Parola, il sudore. Non dico carri. E' lì il cameraman. Quello. Voi dove siete? De Roma. Sono de Roma, tutti i gol. Siamo de Roma. Tutti i gol, tutti i gol. Forza Roma. Forza Lazio. Forza Roma. Forza Roma. Forza Lazio. Forza Lazio. Forza Roma. Forza Lazio. Sempre romanisti. Forza Lazio. Quest'anno è della Lazio. Scendere la mare. Speriamo che se ne vada più di Gagnotti. Poi chi c'è sta? Torres. Torres. Ringraziate Garau di San Antioco. famoso Cacciotta. Cacciotta. Perché Cacciotta? Cacciotta di San Antioco. Eh, il suo soprannome. Perché San Antioco abbiamo tutti il soprannome. Come? Chiamatelo Cacciotta d'ora in poi a Garau. Cacciotta. Ah, non mi permetta di essere perle a gol. Ah, non mi permetta di essere perle. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Ecco che si avvicinia. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.